Inizia in questo istante il match tra Frattese e Barano. Castiglione carica il destro a porta. Palo di Castiglione! I padroni di casa cercano di alzare il giro del motore dopo il palo di Castiglione su punizione. Attenzione il numero 77 in piena area. Il tiro è gol di Mauro. Ora il Barano, occasione per il Barano. Pesce, Pesce, Invernini, Invernini, il tiro di Invernini! Trova lo spazio per il cross. In mezzo, De Lucia! Questa volta la scelta è diversa, la palla in mezzo per la sponda di De Lucia. Invernini ancora, duello contro Gallo. Invernini, Invernini lo supera, Invernini, il tiro di Invernini e golla! Pareggio del Barano sul campo della Frattese. La cross in mezzo, troppo lungo, il sette la rimette in mezzo. Buona la combinazione ancora in area. E gol della Frattese. A segnare ancora Di Mauro. Compagno ancora sulla destra, si tratta di Costanzo. Il cross in mezzo, Costanzo, Di Mauro, il tiro di Di Mauro! Bello il passaggio. Cade il suo avversario, il tiro è fuori. Ciccone riceve, accompagna il numero 8, Di Mauro! Inizia in questo istante il secondo tempo tra Frattese e Barano. Ciccone, buono per De Lucia, De Lucia, De Lucia, che è di destro, la mette dentro. E la Frattese, c'è stato anche un contatto con Muscariello. Costanzo, una prateria davanti a sé, riesce a mettere la palla in mezzo, in rovesciata. Della ripresa, praticamente la sua partita. Attenzione ora, De Lucia, De Lucia! Occasionissima, Di Mauro, Di Mauro in area, 4 conto di lui e calcio di rigore. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa, il tiro e il gol. Ciccone al venticinquesimo. Gervasio e Mariano hanno preso il posto di Di Crosta e Di Mauro. Ora attenzione, Invernini, posizione regolare, Invernini, Invernini, il tiro. Buono lo scambio, con il compagno di squadra in maglia, numero 22, Miele, mette la palla in mezzo. De Simone anticipa tutti, Muscariello. C'è un rosso diretto per il numero 3, De Lucia era ammonito, ma rosso diretto. E' evidentemente che è volata qualche parola di troppo. Cross in mezzo per De Lucia, buco in difesa del Barano, De Lucia! E poi c'è stato un miracolo. Arriva il fischio dell'arbitro, De Simone, il tiro, destro, respinge la barriera, ancora De Simone, poi il tiro. De Lucia addirittura sulla destra, Inversione, cross, mette in mezzo il tiro. De lo staff della panchina del Barano, per quanto riguarda il rosso, attenzione, ora De Lucia! Gol ai giocatori in campo, tanto ora, bello il cross in profondità per il numero 19 della frattese. Anticipato da Gallo, ancora Sant'Anastaso in aria, Sant'Anastaso la mette in aria! E arriva in questo momento il triplice fischio allo stadio Ianiello di Frattamaggiore. La frattese batte per 4 a 1 il Barano.